ecco buongiorno a tutti io sono solito parlare in piedi ma non ho le forze adesso per farlo quindi mi attrezzo questo tavolino davanti disporrò i fogli non ho le forze perché non sto tanto bene ecco cose di stagione cose che capitano allora guardate il primo passo di questo di questo nostro incontro vorrei dedicarlo alla presentazione a presentarvelo perché immagino che magari non tutti ma la gran parte di voi quando si rappresentano l'immagine di Immanuel Kant pensino a quella cosa tradizionale di lui che esce di casa alla stessa ora passeggia per la sua passeggiata quotidiana con una puntigliosa efficienza e puntualità e i cittadini di Königsberg che calibrano l'orologio sul passare del professor Kant dice sono le sette no è impossibile non sono ancora le sette perché Kant non è passato perché il professore non è passato ecco ed era vero c'era questo è un aneddoto vero però non dipendeva da lui il fatto delle sette nel senso delle diciannove ma dipendeva da Joseph Green che era un commerciante inglese che stava a Königsberg in Prussia di cui Kant era diventato amico forse il più grande amico che Kant ebbe curava molto l'amicizia lo si capisce dagli scritti amava ricevere le persone quando quando tornò cioè tornò quando divenne benestante lui era di famiglia molto povera pensate che i suoi genitori sia la madre che morì quando lui aveva 13 anni Anna Regina Reuter poi sentiremo cosa lui diceva della madre sia il padre che morì nove anni dopo vennero sepolti a spese pubbliche il padre era un artigiano un sellaio un sellaio non ci sono più questi questi vestieri e beh dicevo che Kant era 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 quando ottenne finalmente l'ordinariato e all'università di Königsberg e cominciò così ad avere una vita normale e poi raccogliere qualche soldo e diventare quello che noi diciamo abbastanza benestante tutte le sere invitava a pranzo gli amici quasi tutte le sere tre, quattro, cinque, sei ecco diceva che una cena perfetta deve essere adesso vedo di ricordare deve essere configurata così che non meno del numero delle grazie e non più del numero delle muse le grazie sono tre e le muse sono nove e quindi regolatevi quando fate le vostre gli inviti va bene e lui a Joseph Green decise di leggere alcune pagine della critica della ragion pura man mano che le andava redigendo che le andava scrivendo il libro insomma che uscì nel 1781 a quale Kant lavorò per dieci anni, quindici anni sì, praticamente dall'anno della grande luce lui dice che l'anno della grande luce che adesso se ricordo bene il 1769 fino al 1781 quegli anni lì sono gli anni della della lavorazione della critica della ragion pura e andava da Joseph Green e leggeva le sue pagine ma Joseph Green era veramente preciso e quando arrivavano le 19 diceva adesso basta e Kant doveva andarsene e quindi per quello che i cittadini di Königsberg potevano non era così diciamo pedante adesso vi leggo lo conoscerete la conoscerete questa bellissima testimonianza di Herder quando già non era più studente di Kant era avanti nell'età Herder filosofo, teologo tra l'altro per nulla kantiano anzi anzi scrisse un libro dal titolo una metacritica della critica della ragion pura titolo che già subito vi viene voglia no? e qui parla della della gnosiologia della teoria della conoscenza di Kant in questi termini un regno di infinite trame cerebrali una rovina di giovani nature una devastazione delle anime quindi insomma era uno che la pensava diversamente però vedete la grandezza degli esseri umani consiste nel saper riconoscere la grandezza anche se è diversa dalla tua e sentite quindi che cosa Herder scrive io ho avuto la fortuna di conoscere un filosofo che fu mio maestro nei suoi anni giovanili egli possedeva la gaia vivacità di un giovane e questa io credo non l'abbandonò neppure nella più tarda vecchiaia la sua fronte aperta costruita per il pensiero era la sede di una imperturbabile serenità e gioia il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra aveva sempre pronto lo scherzo l'arguzia l'umorismo e la sua lezione erudita aveva l'andamento più divertente con lo stesso spirito col quale esaminava Leibniz Wolf e seguiva le leggi naturali scoperte da Newton e da Keplero accoglieva anche gli scritti appena apparsi di Rousseau come ogni altra scoperta naturale che venisse a conoscere valorizzava tutto e tutto riconduceva a una spregiudicata conoscenza della natura e al valore morale degli uomini la storia degli uomini dei popoli della natura la fisica la matematica l'esperienza erano le fonti che ravvivavano la sua lezione e la sua conversazione nulla che fosse degno ad essere conosciuto gli era indifferente nessuna cabala nessuna setta nessun pregiudizio nessun nome superbo aveva per lui il minimo pregio di fronte all'incremento e al chiarimento della verità e gli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé il dispotismo era estraneo al suo spirito quest'uomo che io nomino con la massima gratitudine e venerazione è Immanuel Kant la sua immagine mi sta sempre dinanzi Epicuro ricorda ai suoi discepoli un piccolo esercizio spirituale che è quello di avere sempre dinanzi a sé una figura ma neanche dinanzi direi al fianco una figura morale un testimone una persona che voi sentite come vostro maestro vostra maestra rispetto al quale attingete energia direzione da che parte vado ecco posso chiedere a lui posso chiedere a lei averlo sempre accanto contemporaneo oppure del passato uno può prendere Seneca uno può prendere Gesù uno il Buddha uno ecco Kant è una di quelle figure secondo me che si può avere accanto la sua immagine mi sta sempre dinanzi va bene concludo questo primo punto ricordando che un altro studente che si chiamava Jachman elogia le lezioni di Kant dal punto di vista della logica le lezioni logiche le lezioni di metafisica però quando giunge a parlare delle lezioni morali di Kant beh dice che ascoltare quelle pure sublime dottrine sulla virtù con così potente eloquenza filosofica dalle labbra stesse del loro ideatore era una delizia paradisiaca quante volte ci commosse fino alle lacrime quante volte ci fece tremare il cuore quante volte sollevò il nostro spirito e i nostri sentimenti magari è un po' retorico no? sembra un po' eccessiva questa 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 prosa di un tempo di fine settecento anzi no queste le scrive nel 1804 proprio nell'anno della morte di Kant quindi dell'inizio dell'ottocento però vedete è proprio l'entusiasmo di una perso giovanile giovanile di chi finalmente ha trovato un maestro in mezzo a tanti professori in mezzo a tante persone che raccontano e presentano pensieri altrui o anche pensieri propri ma insomma in una maniera tale da non entrare e toccare l'interiorità ecco Jachman da giovane incontrando Kant sentiva di aver incontrato un maestro e qual è la differenza tra un maestro e un professore ma lo dice Kant nelle lezioni di pedagogia il primo il professore educa per la scuola il maestro per la vita questa è la differenza la vita e la scuola così assume la sua vera funzione che non è quella di essere finalizzata a se stessa diventando scolastica ma è quella di riversarsi nella vita e diventare esistenza concreta luce per il cammino giornaliero ecco Kant questo voleva lui e i suoi studenti diceva da me non imparerete la filosofia da me imparerete a filosofare la filosofia la puoi anche dimenticare filosofare è un metodo è una maniera di stare al mondo una maniera di camminare di essere sì un modo di essere il modo di essere di chi il modo di essere di chi ama qualcosa di più importante di sé di chi ama Sofia Sofia non significa disprezzare noi stessi dicendo queste cose io non ovviamente sono lontanissimo se qualcuno ha letto anche solo una riga delle cose che ho scritto lo sa il contemptus mundi medievale che corrisponde al disprezzo del mondo che corrisponde al disprezzo di sé rinnegamento di sé tutte queste cose io penso non ci sia niente di più sublime dell'io dell'io dell'intelligenza ma dell'intelligenza che diventa buona dell'intelligenza che riconosce proprio perché è intelligente che ci sono un sacco di cose più importanti più belle più degne di sé e si dedica e questa dedica dell'intelligenza a qualcosa di più importante di sé è il compimento dell'intelligenza ed è la filosofia l'amore per Sofia non è nient'altro che questo vivere con filosofia prendere la vita con filosofia avere una filosofia di vita vuol dire semplicemente questo ecco diceva selbst denken selbst forschen auf eigenen Füße stehen scusate il mio tedesco un po' così e scusate anche se mi è venuto in tedesco ma sono cose che non ho scritto adesso sto parlando un po' così ma era il suo è quello che dice il suo motto cioè pensare da sé selbst denken pensare da sé selbst forschen ricercare da sé ricercare da sé auf eigene Füße stehen Füße piedi stare rito sui propri piedi stare rito sui propri piedi bisogna essere retti non sorretti questo è il senso proprio della di avere una filosofia chi di voi ha una filosofia che può avere un coté religioso o non avere un coté religioso ma del resto guardate le religioni hanno senso nella misura in cui sono introduzioni alla filosofia sono coltivazioni della filosofia chi di voi ha questo e vive di questo sta retto sui propri piedi ha una propria visione del mondo aperta aperta perché altrimenti diventa dogmatismo diventa scolastica ma visione è come la cellula sistema aperto con la membrana da cui entrano e fuoriescono le cose i vari elementi che entrano e fuoriescono dalla cellula senza la membrana la cellula non potrebbe essere se la membrana non fosse permeabile non fosse un sistema aperto la cellula nemmeno potrebbe essere questa è la vita ma questo che vale per la cellula vale per il pensiero un sistema aperto e avere un sistema aperto vuol dire vuol dire esercitare la dialettica e Kant è il maestro della dialettica così come Platone lo è stato nell'antichità così Kant lo è stato nell'epoca moderna adesso vedremo in che modo si esercita questa dialettica veniamo al nostro essere storti il fatto che siamo legni storti non c'era bisogno di Kant per arrivare il punto di Kant è che lui appunto dice che siamo storti ma guarda meraviglia può nascere qualcosa di perfettamente diritto anzi siamo qui per produrre qualcosa di perfettamente diritto sapendo che siamo storti ma il senso della nostra vita è produrre qualcosa di pienamente diritto e così si spiega l'imperativo categorico categorico non è è un imperativo che è un ordine è un ordine categorico non è che devi discutere non c'è niente da discutere devi solo obbedire è una voce che arriva più grande di te la voce di chi? la voce di Sofia è la voce della sapienza universale di tutti i popoli di tutte le persone che con rettitudine hanno vissuto da esseri umani e hanno capito che come esseri umani sono al servizio di potenze più grandi e questa è la potenza più grande di tutte a cui ci dobbiamo porre il servizio secondo Kant è il bene o la giustizia che è la stessa cosa il bene e la giustizia o la bellezza che è la stessa cosa da qui l'ordine che lui non motiva è un imperativo che si dà vedete il pensiero umano non è un assoluto è come si deve poggiare su un punto fermo ha come dire qualcosa che riconosce come assoluto un fondamento un principio primo rispetto poi al quale costruisce un basamento il pensiero è come una cattedrale o anche se volete una semplice casetta a seconda di 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 cattedrale che di altri si scende ma in ogni caso usiamo pure l'immagine dell'architettura bene perché una costruzione possa essere deve avere un punto d'appoggio e questo punto d'appoggio è il fondamento è il fondamento è ciò che fonda e tu lo accogli non lo fondi da te è quello che è quello che appare che ti arriva e che senti è l'emozione vitale l'emozione vitale mediante la quale tu percepisci che è così e poi da qui argomenti e da qui costruisci ma ogni vera filosofia nasce da questa emozione vitale emozione vitale da avere scoperto il fondamento l'assoluto l'indiscutibile l'ineffabile l'incondizionato leggete pagine ci sono pagine della critica della ragion pura da proposito l'incondizionato l'indiscutibile il punto a cui mi appoggio e comincio a costruire per questo ci sono diverse filosofie perché i punti di appoggio sono diversi a seconda dei diversi filosofi è quello che per qualcuno è un fondamento è un punto di appoggio peraltro è una pietra d'inciampo una pietra sbagliata sapete sapete chi detestava Kant nella maniera più estrema tra i filosofi moderni post Kant e dopo dopo Kant il grande nemico che ne parlava come di un ragno funesto ragno è come di uno scaltro cristiano uno che faceva finta di essere laico ma in realtà sotto sotto e tante altre cose chi è? è Nice naturalmente che scriveva che Kant era un idiota era lo stesso appellativo che lui e Nice aveva riservato a Platone un idiota a Gesù è un idiota e a Kant i tre idioti perché sono idioti? ma perché fanno del bene il fondamento ma non lo capite ma questo bene ma lo conoscete il mondo il mondo non sa cosa sia il bene il mondo è potenza è volontà di potenza di dominio di conquista e voi volete fondare la vostra vita e l'altrui vita sul bene ingannatori non avete capito niente va bene noi siamo ovviamente io sono dalla parte di Kant è chiaro e di Platone e perché lo sono ma sapete qui non è neanche questione di essere più intelligenti ah non è questione di essere più intelligenti quando si parla del fondamento primo è proprio una questione di emozione vitale dove tu ti senti a casa dove tu ti senti realizzato dove tu ti senti rilassato a casa ecco sono arrivato questo io sono così e niente può dire quello che vuole naturalmente è vero il mondo è anche quella potenza lo vediamo ogni giorno un mostro di assurdità ma non mi riconosco non mi riconosco non è la mia filosofia di vita che altri costruiscano sulla volontà di potenza e siano potenti e siano dominatori va bene siete contenti così avanti io no io no io sento che la mia umanità si compie quando quando posso condividere veramente fraternamente un un sorriso una camminata una una cosa insomma nell'amore nell'amicizia nella relazione armoniosa sì io sento che questo è e non solo lo sento per me lo sento per la natura lo sento per gli animali lo sento che la verità dell'essere umano è nell'amore e vedremo adesso dopo non mi devo perdere sto perdendo tanto tempo in grazie allora sì il punto è che appunto siamo legno storto certo così Kant lo dice nell'epoca lo dice in un secolo che non ne voleva più sentire parlare di legni storti e come tutto il medioevo che ci dicono che siamo legni storti peccatori e cose basta l'epoca di Kant è l'epoca nella quale finalmente l'umanità si alza in piedi si alza in piedi e prende coscienza e consapevolezza di sé sapere aude queste parole di Orazio che non sono di Kant per quello sono in latino nel famoso scritto del 1784 risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo a Berlino avevano messo una specie di bando che cos'è l'illuminismo e Kant da Königsberg risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo e scrive quello che è diventato il manifesto più importante di tutto non l'ho scritto qui non ce l'ho in parte lo so a memoria che appunto l'illuminismo è l'uscita dallo stato di minorità lo stato di minorità è quello in cui noi non sia noi nel nostro pensare nel nostro agire dipendiamo da altri basta dipendere da altri dobbiamo entrare nella maggiore età abbia il coraggio di sapere sapere anzi abbia il coraggio non solo di sapere ma anche di avere un sapore perché sapere è avere un sapore da cui viene sapienza quando hai sapere e questo tuo sapere conferisce un sapore alla tua persona ecco che tu sei un sapiente se hai solo sapere senza avere sapore sei un dotto un erudito un professore se hai anche quel sapore sei un sapiente e le persone riconoscono che tu insegni per la vita e allora ti dicono ecco maestro beh l'illuminismo è questo momento è l'uscita dell'umanità dallo stato di minorità quindi è un'epoca di grande fiducia avete presente la musica del settecento l'architettura del settecento ecco è proprio dominata da spaziosità iuvarra iuvarra la palazzina di Stupinigi e tante altre cose uno entra e dice che meraviglia ma è una meraviglia proprio di chi ti vuole fare gioire di chi di chi vuole celebrare l'umanità e tuttavia Kant celebrando questo spirito dei tempi avrebbe detto Hegel Gottes no Gotteszeit è un'altra cosa spirito dei tempi Zeitgeist ecco spirito dei tempi volendo celebrare questo spirito dei tempi tuttavia tuttavia non può non vedere che è anche nel settecento che è anche nella maggiorità che è anche nei dotti che è anche nei sapienti dovunque esiste qualcosa che non va quell'imperativo categorico agisci in maniera tale da trattare l'umanità sia nella tua sia nell'altrui persona sempre come fine ma è soltanto come mezzo e questo è la formula secondo il fine oppure la seconda versione la formula secondo la legge agisci in modo da poter elevare la tua azione a massima dell'agire universale a criterio dell'agire universale ecco queste due forme della pura legge morale che dovrebbero essere qualcosa che si impone alla coscienza di ciascuno e queste due cose spesse queste due massime spesso non sono osservate scriveva nel 1784 proprio nello stesso anno dello scritto sull'illuminismo in uno scritto sulla storia universale da un legno storto come quello di cui l'uomo è fatto non può uscire nulla di interamente diritto qualche anno dopo nel 1792 scrive un saggio sul male radicale che poi l'anno dopo nel 1793 costituì il primo capitolo della sua filosofia della religione la religione nei limiti della semplice ragione parentesi nulla a che fare con il razionalismo perché la semplice ragione da Kant viene fatta esplodere ma va bene ma non vinco la tentazione e torno a scrive sul male radicale e per male radicale cosa intende? cosa intende? proprio lo dovete capire quando sentite l'espressione male radicale dovete intendere l'aggettivo radicale proprio in riferimento alla radice alla radice cioè sei storto non fuori sei storto dentro nella radice per cui tutto quello che dalla radice fuoriesce è inevitabilmente storto non è come un albero che a un certo punto si storta un ramo e va bene no è storta la radice tutto quello che esce è non diritto andiamo avanti nel 1795 scrive un saggio tra i più noti di Kant per la pace perpetua un saggio nel quale si prefigura la costituzione della delle Nazioni Unite come poi effettivamente avvenne voi direte l'ONU è un disastro Netanyahu poi ne ha parlato come una palude antisemita sì non funziona granché ma pensate a non averlo pensate a non averlo e pensate il fatto che l'abbiamo un'organizzazione delle Nazioni Unite dove effettivamente si può sì tentare di almeno discutere di pace e di cose affini e dei processi per ottenerla dice non funziona niente sì funziona poco ma se non l'avessimo sarebbe peggio e non è che è sorto gratis è sorto dopo un lungo processo ecco il seme più importante da cui è sorto la nascita nel 1948 prima era una sorta delle società delle nazioni da cui è sorto l'ONU e il seme più importante venne piantato da Kant nel 1795 con il saggio per la pace perpetua titolo ironico che riprendeva la scritta di di un'osteria che rimandava a un cimitero olandese la pace perpetua e in questo scritto torniamo nel nostro essere storto ci sono tutta una serie di considerazioni negative dice così lo stato di pace tra esseri umani che vivono l'uno accanto all'altro non è uno stato di natura perché lo stato di natura è piuttosto uno stato di guerra ha ragione penso di sì lo stato di pace è uno stato di cultura non è uno stato di natura e la differenza tra natura e cultura a Kant era molto chiara così come la differenza tra essere e dover essere poi ci furono tutti gli idealisti prima c'era stato Spinoza e poi tutti gli idealisti il cui senso è abbattere questa distinzione kantiana platonica prima e kantiana dopo questo dualismo questo duo questa dualità tutto il senso dell'idealismo di Fichte di Schelling di Hegel è quello di abbattere questa distinzione tra essere e dover essere e invece Kant da platonico qual'era vedeva la realtà e al contempo teneva fede all'idea la realtà è la natura l'idea è la cultura il mio compito è quello di fare in modo che l'idea l'idea è la cultura a poco a poco penetri nella realtà e la elevi se sto fermo alla realtà se sto fermo alla realtà è quella cosa che lo stato di pace tra esseri umani che vivono l'uno accanto all'altro non è uno stato di natura perché lo stato di natura è uno stato di guerra e ancora nello stesso saggio i popoli e gli stati possono essere giudicati come individui che nel loro stato di natura si ledono l'un l'altro già solo per il fatto di essere vicini sembra che parli di un condominio nell'antropologia del 1798 quindi è coerente con questa dice l'animalità non so se vi riconoscete perché l'antropologia parla di noi parla di me parla di te vi riconoscete adesso in questa frase che vi sto dicendo sentite l'animalità resta sempre nelle sue manifestazioni anteriore in fondo più potente della pura umanità cioè Kant avrebbe detto a Hegel avrebbe detto a Nietzsche ma cosa credi di insegnarmi qualcosa cosa credi che quella dimensione di bestialità che tu vedi e che elogi io forse non l'abbia vista e non la veda il punto è semmai sei contento di questa dimensione ti riconosci oppure senti che il compito tuo è quello di salire di lavorare di essere diverso che da un piano dell'essere si debba passare a un dover essere ancora sempre nell'antropologia la volontà individuale sta parlando di noi della nostra volontà della volontà singola di ciascuno di noi di quando andiamo al mare abbiamo l'ombrellone dobbiamo trovare trovare il posto dalla fila al supermercato di come si chiama delle circostanze la volontà individuale è sempre pronta ad aprire le ostilità coi suoi vicini e si sforza sempre nella sua ispirazione alla libertà incondizionata di essere non solo indipendente ma anche dominatrice dominatrice degli altri e poi continua pagine dopo io prendo così è chiaro la follia ha una parte ancora maggiore della cattiveria nei tratti caratteristici della nostra specie cioè insomma siamo dominatori siamo degli storici e siamo anche folli folli incoerenti proprio l'insania si fanno delle cose così senza senza criterio per il semplice fatto di esprimere la proprio il proprio potere la propria volontà una una volontà che vuole se stessa e che a nulla è riferita se non a proprio capriccio infatti Kant scrive nella nelle lezioni di pedagogia scrive così dice ci sono esseri umani che sono bambini per tutta la vita bambini per tutti bambini capricciosi per tutta la vita niente a che fare con se non ritornerete come bambini di evangelica memoria no qui siamo perché infatti Gesù dice ritornerete sei bambino diventi uomo diventi maturo e poi torni allora va bene ma se rimani infantile non va bene perché siamo fatti così male perché c'è questa radice storta Kant aveva a disposizione diverse teorie e ne discute particolarmente tre la prima pessimismo antropologico assoluto la seconda pessimismo antropologico relativo la terza ottimismo antropologico pessimismo antropologico assoluto ma la natura ma la natura umana è strettamente votata al male è strettamente intrinsecamente strutturalmente hai un essere umano avrai subito del male non c'è verso è così è inestirpabile è inestirpabile il male perché è connaturato è intrinseco a questa volontà di dominio di potenza di 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 ecco se ci pensate il fascismo e il nazismo io ogni tanto mi chiedo ma qual è l'idea perché il comunismo io non sono né fascista né comunista tanto sono tanti anti uno anti l'altro non so se conoscete Vassili Grossman immagino di sì io la penso esattamente come lui ma anche come Anna Arendt se conoscete le origini del totalitarismo ecco il totalitarismo sia quello nero sia quello rosso quindi niente di però non sono idealmente parlando sullo stesso piano perché mentre il totalitarismo rosso ha un'idea riconoscibile che è quella della giustizia universale dell'equità io non sono mai riuscito a capire qual è l'idea universale l'idea fondante del totalitarismo nero se non questa se non questa questa volontà di potenza che schiaccia la volontà di dominio e questa nasce secondo me da un pessimismo antropologico assoluto perché gli esseri umani essendo così malvagi è bene che non siano liberi che siano liberi il meno possibile anzi che non lo siano del tutto che siano controllati determinati ingannati dalla propaganda portati e allora in qualche maniera possiamo possiamo come dire respirare se no se no non respiriamo perché l'umanità è una feccia da cui viene sempre solo il male dalla meschinità all'orrore e così via quindi controlliamoli ecco questo è l'assolutismo di Thomas Hobbes ecco l'assolutismo politico da cui poi nasce nasce proprio la volontà di totalitarismo cioè di riformare completamente la natura umana riformarla cambiarla è un pessimismo antropologico assoluto la seconda teoria è il pessimismo antropologico è sempre il pessimismo ma relativo ed è quella del cristianesimo è il cristianesimo il dogma del peccato originale che fa di ogni essere umano un peccatore cioè di per sé la struttura è buona perché la creazione è buona però c'è stata una frattura originaria insanabile dal punto di vista naturale insanabile dal punto di vista naturale e per questo bisognosa di un risanamento di una redenzione sovrannaturale e questa redenzione sovrannaturale è totalmente gratuita gli esseri umani la possono solo accettare non possono partecipare neanche solo così se tu pensi che partecipi anche solo così sei eretico si chiama pelagianesimo semi-pelagianesimo e cose del genere no alla tua salvezza tu non puoi partecipare se non come accettazione la quale tuttavia a sua volta è un dono anche il fatto stesso che tu ricevi la fede è un dono anche l'accettazione è tutto un dono perché la frattura è tale la frattura il peccato originale con cui nasci che il concilio di Trento definisce morte dell'anima morte dell'anima è tale che è insanabile questo è il cristianesimo vero poi magari ci sono i parroci che dicono no ma non è del tutto ma è perché fa un po' spavento poi ci sono tutte le varie versioni ma il succo del cristianesimo è questo qua e intendo San Paolo e intendo Sant'Agostino e intendo Pascal e intendo Barth e prima ancora Lutero dei grandi cristiani e poi c'è la terza teoria definibile ottimismo antropologico la quale dice che siamo fatti male perché siamo nella società sbagliata è il sistema che ci storta noi in realtà siamo buoni la responsabilità del male è le ingiustizie sociali per cui riformate la società all'insegno della giustizia e la natura umana riprenderà la bontà originaria il pensiero di Rousseau che viene ripreso da Feuerbach dal socialismo dal comunismo e che rivive oggi nei movimenti ecologisti che professano un naturalismo radicale secondo cui quanto più voi state lontano dagli esseri umani tanto più diventate migliori come esseri umani si recupera la bontà originaria stando a contatto con la natura mentre se siete all'interno della società venite corrotti è il grande limite del nostro tempo è che abbiamo sempre meno possibilità di essere a contatto con la natura ora sono tutte tre espressioni che hanno una loro legittimità e naturalmente c'è una parte di verità in tutte queste c'è una parte di verità c'è qualcosa di inestirpabile di male la grazia l'idea l'idea della grazia è assolutamente vera e non la conosce solo il cristianesimo infatti l'idea della grazia qualcosa che arriva per esempio perché qualcuno sente che riposa nel bene e nell'armonia se tutto il mondo è guerra se tutto il mondo è inemicizia sia a livello di microstoria sia a livello di macrostoria competizione rivalità gli amori i commerci le famiglie le tensioni le armi le industrie delle armi le devastazioni i mari gli oceani i pesci più piccoli che vengono mangiati regolarmente dai pesci più grandi a loro volta però mangiano quelli più piccoli tutto mangiano tutti insomma all'interno di questo di questo terribile spettacolo che è il mondo e la natura perché qualcuno sente che la verità di se stesso e degli altri è nell'armonia e nel bene e nella pace perché è migliore oppure si chiama grazia oppure si chiama grazia proprio un fatto estetico estetica rimanda a estesis sensazione estetica uno sente che è così non è merito suo quindi è vera la dimensione 2 del cristianesimo il fatto che c'è bisogno della grazia è vera così come è vera la struttura della società però per cante nessuna delle tre teorie è accettabile la prima beh perché dice la malvagità della natura umana non è vera e propria malignità dobbiamo essere chiari possiamo essere malvagi non siamo maligni il maligno è ciò che vuole il male per il male sempre e comunque cante dice siamo dei legni storti ma non siamo maligni non siamo diabolici ah dice almeno fino a qui quanto alla spiegazione del male tramite il dogma del peccato originale la pensava così qualunque possa essere l'origine del male morale dell'uomo non c'è dubbio che fra tutti i modi di rappresentarci la sua diffusione e propagazione attraverso tutti i membri della nostra specie e nel corso di tutte le generazioni il modo più inopportuno è quello di rappresentarci il male come giunto fino a noi per eredità dai nostri primi progenitori quindi pensa come ti pare la maniera di come mai siamo fatti male la più inopportuna è quella di ricorrere a questo mito di Adamo ed Eva e la generazione così questo è il più inopportuno lui pensava che vedete la differenza tra la visione kantiana che è anche la mia l'ho scritta nel principio passione ormai diversi anni fa e anche in altri scritti e la visione dogmatica tradizionale del cristianesimo è la seguente la visione dogmatica tradizionale del cristianesimo comincia con una luce con la perfezione assoluta l'uomo che esce dalle mani di Dio l'essere umano che esce dalle mani di Dio l'uomo e la donna perfetto la perfezione originaria e poi e poi la caduta quindi avete un dittico con due pale la prima luminosissima la seconda tenebrosissima oscurissima e Kant invece pensa a un groviglio grigiastro una cosa dove da subito il bene e il male sono intrecciati da subito il bene e il male sono intrecciati e per quanto riguarda la terza teoria beh per quanto riguarda la terza teoria Kant dice che non che la società certamente ha la sua funzione ma la società non la società non piove dall'alto nasce dal basso e sei così competitiva eccetera e perché noi siamo così e quindi la verità lui scrive in questa perfidia del cuore che consiste nell'ingannare se stessi riguardo alle proprie buone o cattive intenzioni questa perfidia del cuore e quindi se nessuna delle tre teorie è accettabile come spiegare che siamo legni storti io adesso però mi devo alzare togliere la giacca e il maglioncino perché sto veramente sudando troppo e poi fra ecco ecco non sto ancora del tutto bene va bene lui conclude così l'origine razionale di questa tendenza al male resta per noi impenetrabile va bene ecco la conclusione non lo so ci dice non lo so ecco bellissima la dialettica kantiana la volontà di non avere sistema di non avere dottrina ho guardato tutti i sistemi tutte le dottrine con questa domanda le ho guardate le ho analizzate per quanto è possibile alla fine la conclusione è che non va bene la prima risposta non va bene la seconda la terza anche le altre che potrei elencare non vanno bene ritorno con la domanda mi tengo il mio problema non lo so ma guardate è molto meglio ma molto meglio avere una domanda aperta che una risposta chiusa e sbagliata noi dunque scrive non siamo in grado di concepire il fondamento da cui si è potuto originare in noi il male morale è bello vedete è bello è sublime non è bebe la parola giusta è sublime Kant nella critica del giudizio definisce il sublime piacere negativo come? il piacere è piacere il piacere è positivo no? e lui lo definisce piacere negativo vi è mai capitato di essere al cospetto di qualcosa di così emozionante da avere paura? ma non sto parlando dei thriller sto parlando della bellezza di un volto di un tramonto di una musica e sentite questa bellezza che è che è più grande di voi e volete abbracciarla e al contempo però avete paura e vi ritraete e quasi sentite un'indegnità un'indegnità di stare accanto ecco questo è il sublime è un piacere negativo e questo piacere negativo lui ci insegna a coltivarlo rispetto alla nostra umanità rispetto alla nostra umanità che è disposta al bene adesso vedremo che parlerà anche del bene naturalmente l'imperativo categorico e così via e al contempo è capace nella maniera più feroce di male e non lo so perché è così e non lo so non te lo so spiegare noi non siamo in grado di concepire il fondamento da cui si è potuto originare noi il male morale ma la cosa incredibile è che lui non è in grado neanche dopo averci pensato una vita non è in grado neanche di concepire il fondamento del bene il perché in noi ci sia il bene e però c'è per cui la domanda è come esattamente quella lì com'è possibile che da un legno storto possa nascere qualcosa di pienamente diritto perché qualcosa di pienamente diritto talora appare questa natura che ha questa tendenza al male a volte fa scaturire da sé la luce del bene più puro una volta una volta venne colpito probabilmente era stato Joseph Green il suo amico inglese a passargli questa notizia era rimasto colpito Kant dal detto dal discorso di un parlamentare inglese il parlamento inglese il quale aveva detto vi leggo il brano è il brano di Kant che lo riporta un membro del parlamento inglese nel corso di un acceso dibattito giunse ad affermare ogni uomo al suo prezzo per il quale si vende se questa affermazione è vera parentesi di Kant e ognuno è in grado di stabilirlo da sé chiaro no? chiusa parentesi se al mondo non c'è nessuna virtù per la quale non sia possibile trovare una tentazione così potente da piegarla se il nostro schierarci con lo spirito cattivo con quello buono dipende soltanto dal sapere quale dei due ci offra di più e ci prometta il guadagno più rapido allora allora potrebbe essere vero ciò che dice l'Apostolo e qui cita San Paolo il quale a sua volta cita la Bibbia ebraica il Salmo 14 qui non c'è nessuna differenza tutti sono peccatori allo stesso modo non c'è nessuno che faccia il bene neppure uno e Kant però non la pensava così per lui la differenza esisteva per lui non tutti gli esseri umani sono in vendita lui non era in vendita anche quando aveva bisogno di soldi anche quando doveva vendere i libri ci fu un periodo in cui dovette vendere i suoi libri che si era che si era comprato facendo il precettore per dieci anni nelle famiglie dei benestanti di Königsberg poi riuscì a entrare in università cominciò a fare corsi ne faceva uno dietro l'altro perché più faceva corsi più veniva pagato non aveva lo stipendio all'inizio veniva pagato sulla base delle tasse per così dire che gli uditori versavano partecipando al suo corso ed essendo lui capace di tenere corsi di matematica di logica di fisica di astronomia di metafisica di storia insegnava di tutto per guadagnare aveva bisogno di soldi per vivere e giunse a vendere i libri e ad altre cose ancora insomma ho già detto del fatto che i suoi genitori vennero sepolti entrambi a spese della cittadinanza e tuttavia lui appunto non la pensava così non la pensava così io non sono in vendita vedete anche oggi sui viali delle periferie si vedono uomini e donne che vendono il loro corpo e nei palazzi del potere del potere politico ma anche ecclesiastico ma anche culturale ma anche economico del potere di tutti i tipi lo stesso si vedono uomini e donne che vendono le loro parole e la loro anima ai potenti di turno ci sono queste cose che diceva il membro del Parlamento inglese come dire fotografano una buona fetta della realtà e tuttavia e tuttavia l'umanità non è riducibile a questo alcuni non sono in vendita e Kant diceva bisogna presupporre che in noi sia rimasto in tutta la sua purezza un germe del bene che non poteva essere distrutto o corrotto ecco questa frase è importantissima bisogna presupporre che in noi sia rimasto in tutta la sua purezza un germe del bene che non poteva essere distrutto o corrotto ecco il fondamento ecco il trovato il punto su cui io posso costruire la mia vita e poi anche il mio pensiero ma anzitutto la mia vita il germe del bene il germe del bene un germe scriveva Meister Eckhart c'è una luce nell'anima dove dove non è mai penetrato il tempo e lo spazio tutto ciò che il tempo e lo spazio hanno toccato non è mai giunto a questa luce l'uomo deve permanere in questa luce è questa che Kant ne parla come germe del bene Eckhart come luce io qui ho raccolto è una vita che raccolgo queste testimonianze la prima Omanishad ne parla la prima Omanishad adesso non cito perché sennò diventa troppo ne parla naturalmente il Buddha ne parla quando dice che c'è un cuore dentro il cuore ne parla Mencio quando dice che il Tao è in voi quindi la linea confuciana ovviamente ne parla Platone nell'Apologia di Socrate col Daimonion Seneca scrive all'Uciglio Dio è vicino a te Dio è con te è dentro di te Marco Aurelio dice Dio dimora in te svolgendosi a se stesso Dio dimora in te Agostino dice Noli fora sire non uscire fuori di te in te ipsum redi torna ritorna dentro di te e poi in interiore omine abitat veritas la verità abita nell'uomo interiore questo è il germe del bene da dove viene questo germe del bene da dove viene questa divinità perché è vero siamo legni storti perché è vero ma l'umanità non si spiega altresì senza mettere da subito in campo il germe del bene che il cristianesimo chiama creazione e che altri chiamano in altri modi ma ma che tutte le grandi civiltà tutte le grandi tradizioni riconoscono da dove viene quando già era molto anziano Kant conversava con un amico e disse di aver ereditato questo germe del bene dalla madre Anna Regina la madre scrive così non dimenticherò mai mia madre perché gettò e nutrì in me il primo germe del bene e poi continua mia madre era una donna amorevole sensibile pia eretta piena di tenerezza che col pio insegnamento e col virtuoso esempio avviò i suoi figli al timor di Dio timor di Dio mi sembra di parlare di cose passate voi quando sentite l'espressione timor di Dio cosa pensate? ecco dovete pensare al rispetto per la vita alla riverenza verso l'essere al sentimento di essere al cospetto di qualcosa di prezioso che va custodito che non potete perdere che potete perdere ma che non dovete perdere è questo il timore di Dio e poi continua Kant mi conduceva spesso fuori città mi faceva notare le opere di Dio parlava con estasi religiosa della sua onnipotenza sapienza e bontà infondendo nel mio cuore un profondo rispetto per il creatore di tutte le cose aprì il mio cuore alle impressioni della natura suscitò e allargò i miei concetti ed esercitò con i suoi insegnamenti un perenne benefico influsso sulla mia vita ecco io vorrei dire che queste parole di Kant riportate dal suo biografo da uno dei suoi tre biografi ecco mi toccano profondamente perché anch'io sento di aver ricevuto il germe del bene da mia madre ma vedete sono sicuro che si tratta di un'esperienza comune qualcuno può averlo ricevuto dalla madre qualcun altro dal padre qualcun altro da un professore che è diventato in realtà un maestro o da altre persone il padre i nonni insomma da altre persone è come una fiaccola che si trasmette e che con una parola sola si chiama educazione l'educazione del cuore senza questo tipo di educazione noi non nasciamo non rinasciamo non c'è la conversione tutto il senso della vita consiste nel nel capire che siamo abitati nella nostro essere storti da una luce da un germe del bene e nel capirlo nel custodirlo nel proteggerlo con tutto noi stessi e nel trovare le fonti di alimentazione per farlo crescere questo germe però mi permetto di leggervi dieci righe che ho scrissi vent'anni fa perché l'anima e il suo destino venne pubblicata nel 2007 ma io la scrissi nel 2004 allora non ero nessuno non che adesso sia chissà chi però adesso se finisco un libro ancora prima che lo finisco ci sono gli editori pronti e prima invece avevo finito e dovete aspettare tre anni per con due rifiuti e con ecco alla fine l'ho prese Raffaello Cortina e venne pubblicato l'ho prese Giulio Giorello filosofo della scienza ateo caro amico e lo pubblicò nella sua collana Scienze e idee di Raffaello Cortina va bene in quel libro lì io scrivo queste parole ogni essere umano apprende il bene nel corpo e dal corpo di sua madre nel nostro stesso venire all'essere il bene ci si manifesta come armonia delle relazioni che giorno dopo giorno minuto dopo minuto si vengono a intrecciare in modo sempre più ricco portando il puntino primordiale dello zigote che originariamente noi eravamo a diventare embrione feto neonato e poi bambino che cammina e che parla in questo processo che è la nostra archè l'essere sempre solo bene ed è lì che si forma in noi la fiducia nell'essere nella vita l'essere ci nutre ci forma ci sostiene questa è l'esperienza primordiale la sorgente immacolata dell'infanzia la più basilare rivelazione del logos una rivelazione che coincide con la nostra stessa creazione è il logos che presiede la natura che diviene carne anche dentro di noi altro che peccato originale concludo 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 dicendo che la due cose il primo una funzione pedagogica una dimensione pedagogica cioè tutto il senso della vita consiste nel secondo me l'ho già detto e lo ripeto nel prendere consapevolezza di essere abitati da questo germe del bene da questa luce che è in ogni essere umano è una società è degna di questo nome una scuola è degna di questo nome una famiglia è degna di questo nome nella misura in cui suscita in ogni suo membro la consapevolezza e la crescita del germe del bene per questo l'educazione è importantissima educazione educeo l'educazione la buona educazione scrive Kant è la fonte di ogni bene nel mondo le potenzialità che sono nell'uomo devono essere sviluppate sempre di più in esse non vi sono le radici del male l'origine del male sta esclusivamente nel non dare regole alla natura umana nel lasciarla selvaggia abbandonata a se stessa e allora la natura umana tende sì all'entropia ma se la coltivi la natura umana emergono le potenzialità per il bene e ancora scriveva i ragazzi e le ragazze devono essere abituati per tempo al riso schietto e sincero perché questa illuminazione dei tratti del viso si imprime a poco a poco anche all'interno suscitando una disposizione alla gioia all'amabilità e alla socievolezza che prepara fin dall'infanzia l'avviamento alla virtù della benevolenza per questo concludeva Kant una religione che rende l'essere umano triste e falsa una religione e questo vale non solo per la religione secondo me questo vale per l'estetica secondo me questo vale per la politica secondo me questo vale per l'economia secondo me questo vale per tutto una qualunque forma di pensiero che rende l'essere umano triste è falsa perché noi siamo nati per la gioia che non è la felicità la quale è un'emozione passeggera che vai che viene ah felicità su quale treno della notte cantava Lucio Dalla viaggerai lo so che passerai ma sempre come sempre in fretta e non ti fermi mai queste sono le emozioni la gioia invece può arrivare fermarsi stabilirsi piantare la sua tenda in mezzo a noi perché tutto il senso della vita sta così in questa pedagogia a poco a poco progressiva della gioia e poi e poi concludo con quella che forse è sicuramente una delle frasi più importanti ma forse se dovessi sceglierla tra tutte le frasi kantiane sceglierei questa e quando Kant nella conclusione della critica della ragion pratica scrive la legge morale mi rivela una vita indipendente dalla animalità e anche da tutto il mondo sensibile voi conoscete una vita indipendente dall'animalità conoscete conoscete una vita indipendente dal mondo sensibile no non la conoscete neanche io tutto quello che noi conosciamo di vitale è legato alla animalità e al mondo sensibile all'energia alla materia allo spazio al tempo eppure lui dice la legge morale cioè il germe del bene che matura diviene consapevole diventa programma di vita mi rivela una vita indipendente dalla animalità e anche da tutto il mondo sensibile sta parlando di Dio anche senza nominarlo che è la maniera migliore di parlare di Dio come insegna la Bibbia ebraica sta parlando di Dio la legge laddove vedo la legge morale io capisco che sono al cospetto di una vita diversa altra totalmente altra ed è per questo che lui scrive nella critica della ragione pura io avrò fede nell'esistenza di Dio e in una vita futura e ho la certezza che nulla potrà mai indebolire questa fede perché in tal caso verrebbero scalzati quei principi morali cui non posso rinunciare senza apparire spregevole ai miei stessi occhi il che significa guardate o il fenomeno morale è falso come diceva Nice e cioè solo interesse mascherato oppure se è vero apri un'altra via e forse anche un'altra vita e che sia vero o che sia falso il fenomeno morale dipende da te grazie dell'attenzione grazie grazie a tutti 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 grazie davvero grazie davvero è tanti anni ormai che vengo a Torino spiritualità mi sento a casa mi sento a casa anche in questa città sapete l'altro giorno sarà stato 15 giorni fa sono arrivato a Porta Susa avrei poi fatto piedi da Porta Susa a Porta Nuova perché avevo del tempo e che passeggiavo per Torino e dicevo a me stesso ma perché mi piace così tanto questa città e sapete che l'ho scoperto perché è settecentesca e sento la stessa grazia la stessa precisione ma quella precisione graziosa appunto perché c'è una precisione che non è graziosa è macchinosa ma c'è una precisione soave no? che viene naturale proprio dalla grazia ecco che c'è nella musica del settecento che io di cui mi nutro ogni giorno ormai ecco a casa mia tra i ritratti Kant aveva un ritratto sapete di chi? aveva solo un ritratto nel suo studio di Rousseau Rousseau amava tantissimo Rousseau ed era l'unico che riusciva quando arrivava il libro e Kant non capiva più niente quando arrivò l'Emilio non capiva più niente proprio smise di altro che come si dice calcolare l'orologio sul suo passaggio proprio non usciva non ecco era completamente rapito ed il resto l'Emilio ha delle pagine pensate soprattutto ovviamente al vicario savoiardo la confessione di fede del vicario che è meravigliosa no? è vero conoscete beh leggete le pagine di Rousseau sono meravigliose e poi un'altra cosa che lega Kant a Torino è no adesso è il fatto che le migliori edizioni di Kant sono pubblicate dalla casa di Triceutet sono le migliori sono diverse le traduzioni che voi potete avere tutte eccellenti però secondo me la migliore di tutte è quella di Pietro Chiodi pubblicata da Utet Pietro Chiodi che lui era bresciano però visse e operò in Piemonte sia come insegnante prima ancora come partigiano come partigiano Pietro Chiodi ecco e lui ha tradotto le cose tutto praticamente tutte le cose importanti di Kant quindi se volete iniziare non è facilissimo leggerlo però se volete iniziare ecco con con qualche lettura guardate le edizioni Utet curate da Pietro Chiodi sono le più chiare le più oneste più secondo me le più sicure ecco io ringrazio tantissimo voi della vostra attenzione Armando del fatto che sempre mi invita e custodite il germe del bene grazie